Valorizzare e sostenere la parità a 360 gradi. È stata intensa e diversificata l'attività svolta negli ultimi cinque anni dal Consiglio per le Pari Opportunità, l'organismo a tutela della democrazia paritaria, presieduto da Ombretta Colli. Molti i dossier aperti, dalla politica alle istituzioni, dove sono ancora poche le donne elette, e quelle nei consigli di amministrazione, alla sanità, dove sta nascendo un nuovo orientamento più attento alla medicina di genere. L'operato delle sette componenti del Consiglio per le Pari Opportunità ha dovuto allargare il suo raggio d'indagine, dal tema sempre urgente del lavoro e dell'imprenditoria femminile, alle varie forme di sensibilizzazione dei giovani, attraverso laboratori ed incontri con le scuole secondarie di primo e secondo grado. Un focus particolare ha riguardato il contrasto alla violenza sulle donne. Nel corso di un seminario per docenti sono stati illustrati gli esiti di un questionario distribuito in diversi istituti scolastici della Lombardia. Scopo? Sollecitare un maggior ascolto dei ragazzi da parte degli insegnanti, per prevenire forme di disagio giovanile. Grande attenzione è stata inoltre dedicata agli orfani speciali, i bambini, figli di vittime di femminicidio. Alcuni incontri hanno affrontato il tema della lotta contro le mutilazioni genitali femminili. Il Consiglio per le Pari Opportunità ha inoltre tenuto sedute itineranti sul territorio. Lecco, Cremona, Pavia, Varese, Monza, Milano e Corbetta hanno ospitato appuntamenti aperti ai cittadini. Un'occasione importante per confrontarsi sulle problematiche più diffuse e sulle best practice in tema di donne e lavoro, trattamento economico e mobbing, libere professioni e tutela della maternità, famiglia e conciliazione. Se molto resta ancora da fare in tema di lotta alle discriminazioni, l'esperienza del Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia costituisce un'importante realtà all'insegna dell'innovazione e della formazione di una cultura consapevole per tutti in tema di parità di genere. È stata una commissione molto vivace. Abbiamo iniziato ad uscire, per esempio, dal mitico Pirellone e andare in giro nei vari comuni della provincia di Milano, dell'Inter milanese, a confrontarci con i problemi di quei comuni e con i nostri problemi che sono comunque di risolvere anche i loro. Io credo che sia stato un momento molto creativo e credo che comunque parlare di donne e cercare di risolvere i loro problemi non è mai ozioso perché ogni giorno c'è qualcosa che riguarda una donna. Sì, beh, insomma, il lavoro da compiere è ancora molto, ma la strada è aperta e a nome del CPO, che è questa commissione, noi dobbiamo esprimere auspici che chi ci sostituirà troverà una commissione già collaudata, già pronta a fare cose nuove. Stiamo lavorando per le nostre figlie. Grazie a tutti.